Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi è arrivato il momento di farvi un po' il wrap up delle mie ultime letture di fine gennaio perché vi avevo fatto l'ultimo wrap up a fine gennaio ma anche di tutto febbraio ovviamente e io pensavo di non avere letto molto fool me no, ho veramente letto un sacco e sono molto contenta e soddisfatta delle mie letture perché ho dato un sacco di 5 stelline che è qualcosa che non succede mai 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 comunque prima di iniziare, visto che ogni tanto ve lo devo ricordare anche io se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi sotto e attivate la campanellina mettete mi piace a questo video se ciò di cui parlo vi interessa perché insomma aiuta un po' il mio canale a rimanere sempre nei vostri radar e giù nell'infobox trovate tutti i link di affiliazione ad Amazon se volete acquistare tramite il mio codice così io ne ricevo una piccola percentuale che mi aiuta a mandare avanti il canale e in ultimo se volete offrirmi un caffè simbolico su Ko-fi sempre per sostenere il canale lo potete fare link ai miei social network e quant'altro tutto giù nell'infobox ma partiamo con questo wrap up perché sarà veramente lungo ma cercherò di essere abbastanza no, non cercherò non è vero falso comunque tantissimi libri tantissime graphic novel e due audiolibri quindi partiamo parto subito da due audiolibri che ho ascoltato ma dei quali ho anche la copia fisica questo mese ho provato i 30 giorni di abbonamento a Storytel già disdetti comunque mi ha dato la possibilità di ascoltare qualcosina visto che la categoria fantasy è quasi completamente ignorata dagli audiobook o almeno quelli sicuramente in lingua italiana cioè è tragica la sezione ho iniziato ad ascoltare libri che ho in cartaccio ma stavo rimandando da un po' il primo è The Power di Naomi Alderman che io penso di aver perso la sovracopertina sono una bruttissima persona che avevo intenzione di leggere l'anno scorso per la mia TBR di marzo e come tutte le TBR porta sfighe quindi i libri non si leggono quando io faccio le TBR magari voi siete molto bravi io no quindi ho detto vabbè colgo l'occasione per leggere almeno questo visto che era tra i titoli presenti e in audiolibro è una cosa che ascolto abbastanza di frequente quindi sono abituata mi piace lo faccio durante il lavoro ma non è un video sugli audiolibri questo quindi devo muovermi The Power di Naomi Alderman avevo delle aspettative che solo Dio sa in italiano The Power è tradotto come ragazze elettriche sì e chiaramente io avevo delle aspettative incredibili essendo uno dei titoli paragonati a The Handmaid's Tale infatti ci troviamo in un mondo distoppico dove a un certo punto alcune donne presentano dei sintomi strani iniziano ad avere dei poteri legati all'elettricità e a macchia d'olio si diffondono in numerosi punti degli Stati Uniti ma non solo e si arriverà a sovvertire la società proprio perché queste donne proprio perché queste donne che ora manifestano dei poteri ribalteranno tutta la società e l'ordine politico e ne succederanno un sacco penso che la trama sia abbastanza nota quindi io non sono qua per le trame perché mi annoia a morte parlare delle trame non sono neanche capace di parlare delle trame detto ciò è un libro che in realtà è stato per me una grossissima delusione e vi spiego perché nel senso che è un po' per le aspettative che sicuramente hanno inciso e ve lo dico però il problema fondamentale è che secondo me il modo in cui vengono gestite alcune situazioni il modo in cui si evolve proprio la questione della scoperta del potere la scoperta di avere la possibilità di gestire l'elettricità e utilizzarla anche a proprio vantaggio o in caso di difesa a volte è veramente molto sciocco mi dispiace dirlo nel senso che viene trattato in una maniera molto semplicistica e questa cosa mi ha molto deluso in più l'evoluzione in cui si passa nel ribaltare l'ordine costituito è un po' a tarallucce e vino cioè non so come dire non c'è una vera rivoluzione come posso immaginare cioè immaginatevi davvero se domani tutte le donne del mondo hanno la possibilità di utilizzare delle scariche elettriche in maniera violenta contro chiunque si opponga a loro contro chiunque sia aggressivo nei loro confronti e cerchi di sovvertire l'ordine sociale cioè io ci vedo il bordello ci vedo veramente qualcosa di rivoluzionare ma in maniera molto profonda molto violenta anche in alcuni casi e invece cioè non so come dire questo è molto ingenuo questo aspetto è veramente molto edulcolorato no no questo aspetto qua mi è sembrato stupido all'inverosimile devo dire che in generale la scrittura dell'Alderman non è malvagia anzi è piacevole molto scorrevole in italiano è tradotto molto bene però forse sarà che questo presente nel quale lei ci fa vedere avvenimento dopo avvenimento e senza una vera e propria analisi da lontano rischia quasi di far risultare tutta la narrazione molto di nuovo naive stupida sciocca e molto sbrigativa in alcuni casi cioè come se fosse cioè è normale che succeda questo cioè no anzi sarebbe qualcosa di così impattante soprattutto nella società moderna con un'attenzione mediatica molto alta su questa cosa con del non so mi è sembrato un cioè mi è sembrato il classico libro ottime intenzioni ottime premesse buonissima idea ma poi l'esecuzione ha lasciato un po' desiderare ma noi non siamo qui a giudicare le intenzioni e le premesse siamo qui a giudicare il risultato perché capiamo tutte le intenzioni ma hanno anche un po' rotto le balle le intenzioni passo invece a un audiolibro che io ho ascoltato perché sto rimandando la lettura di questo libro l'ho iniziata poi abbandonata eccetera da una vita che è Cassandra di Christa Wolf io mi sto mangiando le mani perché questo è il classico libro che io avrei adorato amato alla follia ma che ho rimandato perché a volte non lo so ci sono cose che si inframezzano nella vita che non ci permetto di leggere tutto e anche no di questo ce l'ho la sovracopertina anzi la vado a prendere eccola guardate com'è bella in Italia pubblicato da Edizion.io anche la copertina è veramente molto bella molto interessante per 11,90 euro è un libro che vi mangiate in una giornata veramente molto breve e molto non so appassionante su questo posso esserne certa Cassandra ovviamente è una rilettura della figura di Cassandra figlia di Ecuba e di Priamo che ripercore un po' la sua vita con un parallelismo molto forte con gli avvenimenti moderni e questa è la chiave di lettura in cui io l'ho visto e penso sia abbastanza corretta poi magari non è così però insomma seguiamo Cassandra che dal primo momento subisce su di sé una serie infinita sia di spostamenti che la destabilizzano spostamenti a cui è costretta e che incideranno tantissimo sulla sua vita ma soprattutto avrà molto a che fare con la guerra e la guerra sarà ciò che determinerà il suo pensiero e anche il suo ruolo all'interno sia della famiglia che della società nella quale è inserita e Cassandra fondamentalmente è un simbolo molto forte di ciò che rappresenta l'evoluzione l'imposizione di un ruolo di genere in cui lei viene relegata e da lì in poi non avrà più movimento non avrà più la possibilità di far sentire la propria voce in maniera decisiva però nonostante lei vive subisca questo che è un'evoluzione continua costante e neanche troppo silenziosa soprattutto troviamo Cassandra a riflettere molto sulla guerra fino al primo momento Cassandra non spende una parola gentile per i greci che sicuramente sono ciò che condizionerà fortemente la sua vita e il rapporto con la guerra come se la guerra fosse qualcosa è una cosa che permetta talmente tanto sia la vita che il pensiero che le emozioni che proprio i rapporti tra gli esseri umani da diventare un'ombra oscura che peggiora tutto ciò che fa parte della vita civile sociale di una persona e Cassandra rappresenta soprattutto la figura femminile che è in una società che è dominata da uomini uomini che si fanno la guerra uomini che che antepongono i loro desideri personali e le loro convinzioni a quelle di tutto il resto della società soprattutto delle donne non cede di un passo Cassandra è una persona integra che fino alla fine non si pente di ogni singola azione che compie che non si pente dei suoi pensieri delle sue emozioni e che rivendica a gran voce il suo ruolo all'interno di questa storia e davvero per me è stato un libro molto molto toccante per alcuni versi devo dire che ahimè purtroppo la scrittura della Christa Wolf non è la mia preferita però l'ho comunque apprezzata man mano che andavo avanti perché è veramente molto macchinosa è veramente piena di subordinazioni cioè vabbè insomma questi sono aspetti molto tecnici però devo dire che invece soprattutto nell'audiolibro ve lo consiglio perché è veramente ottimo ma devo dire che anche la lettura del libro è veramente molto veloce però in qualche modo questo suo stile che ricorda comunque un'interpretazione quasi moderna della psicologia di un personaggio mitologico di un personaggio epico ha dato e restituito una voce a Cassandra dopo un'intera esistenza in cui era stata relegata sullo sfondo in cui veniva comunque considerata un personaggio secondario quasi sfortunato e invece qua le ridiamo dignità con una forza secondo me molto potente mi è piaciuto veramente tantissimo e gli ho dato 5 stelline perché nonostante le mie problematiche con questo stile che non è proprio tra i miei preferiti non è proprio il più fluente della storia però è comunque apprezzabilissimo cioè una meticolosità pazzesca su questo proprio non si può dire nulla e devo dire che mi è piaciuto moltissimo sono veramente molto molto vicina a questo personaggio in questo momento e mi è piaciuto molto diciamo che magari al contrario della Miller che ha invece una necessità più di spingere l'aspetto emotivo attraverso i suoi personaggi la Krista Wolf rende molto epica l'emotività dei suoi personaggi non so sono sottigliezze magari è chiaro che sono vicine come modalità anche perché reinterpretano una figura femminile del passato che non era mai stata scovata insomma vabbè leggete Cassandra perché è veramente un gioiellino è veramente molto molto interessante voglio recuperare altro della Krista Wolf non so quando però prima o poi succederà poi vado indietro e ricomincio insomma non dagli audiolibri ma da tutto ciò che ho letto a fine mese ci saranno tante graphic novel vedrete ma non solo la prima graphic novel che ho letto dopo che ci eravamo visti l'ultima volta è Tosca dei boschi di radice e turconi che voi sapete io amo alla follia loro sono il mio duo italiano preferito vi confesso subito che però questo è il libro di turconi e radice che mi è piaciuto meno per forse perché manca quella componente più non so come dire più sociale che so che è strano che però secondo me contraddistingue tantissimo la loro narrazione c'è sempre quell'attivismo quell'impegno sociale che secondo me è il loro punto forte che li distingue da tanti altri e non lo so Tosca dei boschi è una graphic novel ambientata nella Toscana del 1300 siamo nel Ducato di Castelguelfo incontriremo Lucilla insieme a lei Tosca e Rinaldo che intrecceranno le loro vicende personali abbastanza travagliate con anche le vicende della città chiaramente ma soprattutto con un'ode vera e propria alla poesia e alla letteratura del 300 italiano che sarà una componente molto forte è quasi più una favola questa è una favola che ricorda quasi un film Disney ha un po' quest'ottica qui devo dire che è stato molto piacevole è una lettura davvero molto carina forse orientata ai più piccoli rispetto agli altri volumi di Radice Turconi è la storia di un'amicizia molto improbabile che scavalca le classi sociali in un'epoca costellata da guerre e costellata da conflitti non solo tra cavalieri ma ci sono tutta una serie di intrighi politici eccetera e questi personaggi proprio unendosi e trovandosi nella storia cresceranno come persone il tutto accompagnato sempre da questo fortissimo attaccamento alla poesia e non so questo è veramente molto interessante questo aspetto io gli ho dato quattro stelline tre stelline e mezzo quattro perché è quello davvero che mi è piaciuto di meno di Turconi e della Radice però loro sono sempre una garanzia quindi leggere questo volume significa essere trasportati in un'epoca molto sognante in un'epoca dove noi rivediamo tutto quello che abbiamo studiato ed è veramente molto molto interessante e io ve la consiglio certamente non è qualcosa che vi sconsiglierei magari ecco se dovete leggere qualcosa di Turconi e della Radice questo esula un po' dalla loro comfort zone solita ecco questo esula un po' dai loro temi classici ecco e forse è meno potente rispetto ad altri volumi però è sempre comunque una piacevolissima lettura questa è edita da Bao Publishing al prezzo di 19 euro poi come ben sapete ho letto a inizio mese quello che era il mio titolo più atteso dell'anno ovvero King of Scars di Leigh Partugo non ne riparlerò oltre perché ovviamente ci ho girato un'ora di video quindi se siete molto curiosi vi linko qua sopra magicamente il mio video dove ve ne parlo e sbrodolo tutto e sappiate che a me è piaciuto è un libro che mi è piaciuto però diciamo che secondo me è un libro un po' che pone tante questioni io non vado oltre perché se no spreco tempo per questo video dopodiché ho letto questa storia che si chiama Trottole di Tilly Walden è una graphic novel direi penso che sia una graphic novel sono un po' confusa in questo caso però insomma è il mio primissimo incontro con Tilly Walden e Trottole è una storia autobiografica infatti racconta la storia di Tilly che fin dall'infanzia ha pattinato è stata una pattinatrice molto impegnata anche brava che partecipava ha un sacco di competizioni però diciamo che sfrutta il tema del pattinaggio soprattutto per parlare della propria vita perché il pattinaggio diventa una vera e propria metafora per ciò che è la sua evoluzione le sue difficoltà Tilly è una persona molto timida e che si confronta anche con la propria identità con la propria col proprio orientamento sessuale con ciò che significa essere se stessa in un mondo che non le dà risposte in una famiglia che difficilmente parla con lei e in un ambiente del pattinaggio che rappresenta un po' l'amore e odio perché da un lato è molto legata è un po' il suo punto fisso ma dall'altro lato capisce di odiare totalmente pattinare che forse non è quella la sua strada e le crea ansia difficoltà eccetera eccetera e devo dire che è una graphic novel che ho letto con piacere però non mi ha convinta fino in fondo io le ho dato tre stelline infatti non sono andata oltre perché secondo me il punto di vista è molto interessante nel senso a me è piaciuto molto come Tilly Walden abbia gestito l'evoluzione del suo rapporto con il pattinaggio con l'evoluzione di se stessa è una cosa che secondo me chi ha a che fare con lo sport ha vissuto a un certo punto della propria vita questo sistema conflittuale in cui lo sport è magari un punto fisso potente che ti identifica però forse non è ciò che ti piace fare non lo so ho sentito tantissimi amici sportivi che hanno vissuto un po' questo questo aspetto conflittuale dentro di loro e secondo me lei lo esprime molto bene però la cosa che non mi ha fatto impazzire è che la Walden gestisce tutto in maniera molto episodica senza una vera e propria correlazione è vero che c'è un capitolo finale scritto dove l'autrice cerca di spiegare il modo in cui voleva far emergere la storia che non è una vera e propria storia lineare che parte dal punto A succede B, C, D e poi arriva la convinzione anzi sono tutta una serie di emozioni che emergono e questo è molto evidente diciamo che personalmente ho un po' faticata a muovermi dentro questo mondo perché penso dipenda anche un po' da una mia difficoltà personale Tilly è una persona molto immobile è una persona che non reagisce è molto timida molto sensibile e non ha la spinta per riuscire a cambiare ed è in questo momento immobile non riesce ad avere la spinta per cambiare la propria vita è molto giovane quando la incontriamo ma a un certo punto arriva alla decisione di intraprendere la scuola d'arte quindi è un arco narrativo molto ampio e diciamo che forse la cosa che più mi ha tenuta lontana dall'amore per questa storia è proprio la difficoltà di immedesimarmi personalmente in una persona così non reattiva ecco e quindi questo è un limite mio non è un limite della narrazione perché anzi secondo me riesce ad esprimere anche la difficoltà di questa evoluzione personale in tantissimi casi non c'è nulla di male ad essere terrorizzati e paralizzati in determinate situazioni ci tengo a chiarirlo forse io avrei voluto vedere più una spinta più una decisione più una conferma anche di quelle che sono le proprie passioni le proprie convinzioni ecco forse è questo che ho faticato un po' comprendere ma ripeto limite mio più che del volume e anzi secondo me questo aspetto molto delicato molto complesso molto conflittuale che vive la Walden è espresso davvero molto bene ed è gestito molto bene diciamo che questo tipo di narrativa secondo me può essere molto incisiva come bene in questo caso secondo me è stato meno incisiva di quanto io mi aspettassi ecco però forse è un più limite mio che è un limite del volume però vi invito davvero a dargli una possibilità soprattutto se siete persone molto sensibili soprattutto se siete persone molto timide molto chiuse perché secondo me questo è un buonissimo modo per capire anche come muoversi all'interno di certe difficoltà e certe dinamiche anzi lo trovo molto adatto soprattutto a chi queste cose le vive in prima persona forse le capirà meglio di me sicuramente Trottoli è venduto in Italia da Oscar Inc di Mondadori a un prezzo di 25 euro ok poi arriviamo a veramente la rock star di questo video io ve lo dico devo cioè ok iniziamo Cinzia di Leo Ortolani ok io ho veramente penso di non aver mai riso così tanto leggendo il libro ma pur ridendo mi sono anche commossa e questa è una cosa molto particolare non so come dire per chi non la conoscesse Cinzia è una dei personaggi di Ratman che tra l'altro dentro Ratman subisce una serie infinita di umiliazioni che per anni chi ha letto anche poco anche chi come me non era una grandissima appassionata di Ratman ma gli è capitato spessissimo di incontrarlo leggere avere qualche striscia Cinzia era una di quelle che io veramente volevo vedere prendere vita io volevo davvero che avesse uno spazio e in questa graphic novel che io vi consiglio ve lo giuro anche se non sapete chi è non importa la riuscirete a leggere lo stesso in questo caso noi affrontiamo Cinzia che è una persona che decide di non definirsi Cinzia è chiaramente Cinzia che non vuole essere definita dal suo genere che la sua biologia la definisca anzi però la seguiamo in una serie di difficoltà quotidiane l'innamorarsi il cercare lavoro e nascondere un po' quello che è il suo segreto che non è un segreto perché Cinzia ha una grande particolarità proprio grande nel senso però Cinzia è splendida è meravigliosa è coraggiosa non si ferma mai davanti a nulla soprattutto è un libro che ragiona da un lato prendendo poco sul serio la comunità LGBT e cercando un po' anche di dissacrare alcuni dogmi ed è veramente molto divertente questa parte spesso ci sono identità sensibilità diversa all'interno anche della comunità LGBT secondo me qua è gestito molto bene soprattutto Cinzia è un personaggio che ragiona tantissimo sul fatto che tutti veniamo incanalati verso un genere o verso un altro non possiamo essere qualcosa in between qualcosa nel mezzo che ci distingue o che ci fa sentire più sereni e ad agio con noi stessi e soprattutto Cinzia fa vedere un lato della società che è quello che lei vive come discriminazione come difficoltà sempre però prendendolo in maniera molto brillante scintillante perché Cinzia è una personalità che non puoi arrestare e quando si trova incastrata in situazioni che la mettono in difficoltà lei rivendica la sua identità rivendica l'essere se stessa fino in fondo e non spaventarsi davanti anche agli episodi di discriminazione peggiori che una persona può vivere l'esclusione sociale il fatto di non poter nemmeno trovare un lavoro e dover negare se stessa per trovare un lavoro e riuscire a campare cosa che ovviamente affligge la comunità transessuale tutt'oggi io ho adorato questo volume e davvero mi ha fatto molto riflettere su alcune cose che tutti non so diamo un po' per scontato che non tutti ovviamente viviamo eccetera l'ho adorato soprattutto perché lo fa con ironia lo fa con un senso di libertà totale e una convinzione tale nell'esprimere quello che è la propria identità l'essere se stessi indipendentemente da il genere indipendentemente da chi siamo eccetera e non so è veramente bellissimo io ora sono veramente una macchia e non vi dirò cos'è perché vi rovinerei il finale però leggete Cinzia vi prego vi prego leggete Cinzia lo dovete fare per voi stessi sembra una televendita questa però io sono super felice di averlo letto ed è una delle graphic novel migliori che io abbia letto edito da Bow Publishing per un prezzo di 20 euro 20 euro investiti benissimo dopodiché mi è capitato di leggere un libro stranissimo che ho letto per una recensione che si chiama All the Birds in the Sky di Charlie Jane Anders che racconta la storia di Patricia e Lawrence che sono due personaggi di per sé marginati per motivi molto diversi Patricia infatti è una strega e ha il potere soprattutto di comunicare con gli animali soprattutto con gli uccelli e di Lawrence che invece è un genio della scienza un genio tecnologico quindi grazie alla sua straordinaria intelligenza riesce a progettare cose meravigliose e impressionanti fin dall'infanzia entrambi pur provenendo da due mondi molto diversi subiscono a scuola le stesse discriminazioni vengono emarginati vengono bullizzati e aggrediti e sono costretti entrambi a fuggire e a lasciare la scuola e a spostarsi verso altri luoghi pur non aspettandoselo si ritrovano diversi anni dopo dove entrambi sono cresciuti hanno sviluppato le proprie capacità e hanno cambiato un po' la propria vita polarizzando un po' anche le proprie esistenze infatti Patricia rappresenta la magia rappresenta lo straordinario quello a cui è difficile credere insomma invece Lawrence sempre di più è diventato l'emblema della scienza è diventato parte integrante di una corporation che sta sviluppando cose incredibili e sempre di più le loro storie si polarizzano verso due mondi diversi e attorno a loro il mondo sta decadendo sta crollando si va sempre di più verso un'apocalisse praticamente ed entrambi rincontrandosi dovranno un po' avere a che fare sia con quello che rappresentano col proprio ruolo con la propria conoscenza ma soprattutto dovranno cercare un equilibrio in queste due forze che sembrano apparentemente opposte allora è difficilissimo parlarvi di questo libro primo perché lo spoiler è molto facile e non vorrei farvelo secondo perché è veramente un libro strano non so come altro descrivere questo libro e io gli ho dato tre stelline ve lo premetto anche se è stato un libro da un lato molto affascinante molto interessante ma è stato proprio strano non saprei neanche come descrivervelo in un altro modo perché so che è facile dire un libro è strano non ho mai letto niente di questo tipo ma questa cosa è verissima ha tantissimo a che fare con il realismo magico perché comunque si percepisce questa dimensione molto terrena molto tattile della magia o comunque di un sistema non ordinario che non ha a che fare solo con la magia ma anche con la tecnologia non so come dire non è del tutto legata al realismo magico ha degli elementi del fantasy ha degli elementi del sci-fi ma è una distopia anche eppure non si scosta mai anche da quello che potremmo legare alla narrativa perché comunque si parla anche di temi molto pesanti e molto importanti è proprio strano io durante la lettura ero veramente super confusa ma più che confusa stordita perché comunque devi seguirlo devi andare avanti e anche se non sai bene che cosa sta accadendo devi fidarti e se non ti fidi non capirai il libro non capirai il tema del libro è stato veramente molto strano ripeto però molto piacevole perché in fondo il tema prevalente ed è eseguito davvero bene come è eseguita una delle migliori relazioni che io abbia mai letto in un libro è quello della lotta ancestrale tra la natura e la scienza e come queste due cose siano perennemente in conflitto mentre invece potrebbero esserci altre soluzioni potrebbero convivere coesistere aiutarsi coordinarsi insomma è stato strano devo dire che devo dire che difficilmente trovo libri che posso dire non ho mai letto nulla di questo genere in questo caso è totalmente vero è totalmente realistico e non so è stato stranissimo è stato veramente strano io ve lo consiglio soprattutto se volete leggere qualcosa che non rileggerete mai più nelle stesse forme nelle stesse dimensioni molto molto intenso e davvero ha dei pregi molto alti diciamo che forse è stata questa lettura un po' confusa da parte mia che non mi ha fatto alzare il voto però ve lo consiglio davvero perché non troverete tanti titoli simili a questo poi arriviamo a un'altra graphic novel che forse è un fumetto non saprei come descriverlo che è stato veramente adorabile non c'è altro modo con cui descriverlo che è The Prince and the Dressmaker di Jen Wong questa è la storia di una sarta che viene un giorno a sorpresa assunta da un principe per confezionare dei vestiti personali ma sarà qualcosa di molto particolare perché il principe ama travestirsi ama fare cross dressing e quindi si veste da donna e insieme compieranno un percorso molto turbolento prima perché nessuno deve sapere che il principe si veste da donna in quest'epoca dove chiaramente è uno scandalo totale però incontreranno delle difficoltà insieme non facili e allo stesso tempo la nostra sarta verrà riconosciuta come una delle più brillanti innovative eccetera eccetera è una storia che io ho trovato adorabile perché ha veramente un modo molto delicato di affrontare tantissime questioni la prima è quello del travestimento quindi quella del fare cross dressing che gestita in questo modo non è semplice per nulla in fondo il nostro principe rivendica questa sua identità nascosta che lo fa sentire libero che lo fa sentire meraviglioso che lo fa sentire proprio Lady Cristallia che è il suo nome d'arte e allo stesso tempo però si scontra anche un po' con le difficoltà che vive Frances che ha un talento incredibile nel suo lavoro però viene sempre un po' sminuita messa in secondo piano viene si trova sempre ad avere a che fare con un mondo che non è pronto ciò che lei fa e dove tutti cercano di metterle un po' i bastoni tra le ruote e non voglio svelarvi come si evolve la situazione perché capirete che tutto fuorché è facile ci saranno dentro tantissime questioni aperte soprattutto familiari soprattutto di reputazione soprattutto di come gestire questo grande segreto però è davvero adorabile e io davvero non so come descrivervelo in altre parole perché è molto carino gli ho dato 4 stelline so che uscirà in Italia per Bao a maggio quindi sono molto molto contenta di averlo letto io ho preso la versione americana che costa 17 dollari il livello direi che è tra principiante e intermedio quindi molto molto semplice da leggere adorabile adorabile e anzi sono super contenta di averlo letto poi arriviamo a un punto dove io farò l'asina ovvero il libro ho letto una graphic novel una serie che poi in realtà ho letto solo il primo volume di una serie a fumetti che è Monstress questo è il volume 1 che si chiama Risveglio dove vedete in copertina c'è la mia omonima figa quella carina non come me vabbè comunque parte fare l'imbecille è una serie che era stata consigliata da Neil Gaiman quindi quando Mondadori me l'ha mandata io non la leggo che cosa sto dicendo il primo volume secondo me è molto interessante molto strano racconta la storia di questo personaggio che si risveglia senza memoria degli atti passati di ciò che è successo in passato però in un mondo apocalittico permeato dalla magia sempre in guerra dove lei dovrà da un lato cercare la propria identità e svelare la propria storia quella che ha dimenticato che non ricorda e nel momento in cui la affronterà e la ricorderà verrà comunque coinvolta in altri casini infiniti devo dire che a me è piaciuto molto mi ha dato 4 stelline perché la storia premette benissimo infatti sono molto curiosa di leggere i prossimi e lo farò spero molto presto però poi sono stata attirata da un'altra cosa di cui vi parlo dopo quindi la mia vita si è annullata però è veramente molto avvincente mi ha ricordato in qualche modo un po' degli elementi di saga ma soprattutto mi ha ricordato tantissime anime di quando io ero una giovane donzella una sorta di full metal alchemist una sorta di evangelion anche per qualche cosa ma anche cose decisamente più oscure anche perché i disegni sono in mano a Sana Takeda che è di Tokyo quindi proprio quindi direi che è abbastanza naturale che abbia un'influenza molto orientale su alcune cose disegni bellissimi ci sono delle tavole pazzesche davvero molto dettagliate come già vedete la copertina si ripetono continuamente nella narrazione è veramente pazzesco molto molto bello dal punto di vista visivo molto potente molto violento molto cruento molto avvincente e mi è piaciuto molto come aspetto di questa storia perché comunque mescola tanti toni mescola comunque una storia molto complessa che in questo caso ti lascia molto confusa e inizia a capire qualcosa solo verso la fine ma quindi non oso immaginare nei prossimi cosa succederà e premette molto molto bene adesso sono abbastanza esaltata anche da questo volume ho fatto un sacco di letture belle sto mese comunque comunque in vendita per Oscar Inc al prezzo di 19 euro consigliato io ve lo consiglio poi ho letto un altro graphic novel sempre di Bow Publishing che è Murderabilia di Alvaro Ortif la storia di Murderabilia è di questo ragazzo che non fa nulla nella vita non lavora dice che vorrebbe fare lo scrittore ma non è neanche molto convinto di ciò che vuole scrivere un giorno riceve la notizia che suo zio è morto e lui si dovrà occupare di sistemare alcune questioni burocratiche e poi si dovrà occupare di trovare un nuovo padrone ai gatti dello zio dove si riveleranno un po' dei retroscena un po' creepy diciamo così però trova un nuovo padrone per i gatti e inizia questo viaggio per portarli proprio a quest'uomo che scoprirà essere un collezionatore di oggetti legati a personaggi criminali personaggi un po' dubbi e di scene molto cruente ad esempio la casa nella quale vive è una casa dove c'è stato un terribile omicidio tanti anni prima e pur essendo una persona tranquillissima comunque colleziona oggetti considerati creepy considerati horror e Alvaro deciderà di rimanere in questo paesino dopo l'incontro con la gestrice della locanda nella quale aveva alloggiato in quei giorni lì e inizierà a lavorare per lei inizierà a vivere la sua nuova vita lì scontrandosi un po' con quello che è la cittadina che è molto piccola e con ciò che è la mentalità del posto e diventando sempre di più amico di questo anziano uomo ai quali ha venduto i gatti dello zio che sono stati pagati tra l'altro profumatamente e insomma Mordorabilia è una storia molto strana che non mi ha convinta fino in fondo nel senso che non l'ho trovata brillante come storia ha degli elementi molto interessanti in fondo la parte soprattutto più strana più creepy secondo me è gestita molto bene ha questo elemento che ti destabilizza un pochino quando inizi ad entrarci dentro però secondo me ha non lo so manca un po' una spinta davvero molto più forte manca proprio un appiglio narrativo un po' più accattivante per il lettore perché comunque si continua a seguire la storia del nostro protagonista che non arriva veramente mai a una vera e propria evoluzione personale se non alla fine che però non la chiamerei evoluzione personale e nonostante sia molto passivo nella sua vita rimane molto passiva anche la narrazione forse un po' si rispecchiano questi due aspetti e non lo so a me non ha pienamente pienamente convinto l'ho trovata un po' debole rispetto ad altre cose che ho letto comunque piacevole disegnata molto bene molto solida da certi punti di vista però per me più di 3 stelline non se le merita comunque se siete curiosi e se siete appassionati magari di questi aspetti un po' macabri questo è in vendita da Vau Publishing per un prezzo di 17 euro ci siamo quasi raga rimanete con me penultimo titolo del quale vi parlo e del quale però vi ho già parlato quindi non mi dilungherò più di tanto è Indomite numero 2 di Penelope che io ho letto in anteprima quasi 15 giorni fa un paio di settimane fa abbondanti non so dopo quando vedrete questo video vabbè ma comunque non è quello punto che secondo me supera addirittura il primo volume io l'ho adorato alla follia è veramente super piacevole leggere tutte queste biografie comunque se siete curiosi di sapere quale Indomita io ho adottato e qualche informazione in più sul volume vi rimando qua al link del mio video ma poi arriviamo a The Beast e su questo sono molto indecisa se girarci un video proprio dedicato perché comunque ci vuole veramente molto tempo per parlare di questo libro vabbè lo decideremo insieme magari fatemelo sapere giù nei commenti adesso comunque vi darò delle impressioni generali ho finito ho finito The Beast ovvero scusatemi The Priory of the Orange Tree che sarà tradotto in Italia a dicembre con il priorato dell'albero delle arance si dovrebbe chiamare di Samantha Shannon io purtroppo ho questa versione che è la meno bella di tutte ma è l'arc che mi aveva mandato Bloomsbury a dicembre ci ho messo una vita a leggerlo ma tutto tempo speso benissimo non so come dire non vi fate spaventare dalla mole continuate perché a un certo punto voi capirete che la vostra vita dipenderà da ciò che leggete qua dentro non so come dire tutta la vostra vita sarà funzionale alla lettura che cosa racconta il priorato dell'albero delle arance mi devo abituare al titolo in italiano The Priory è la storia di un regno ok descrivervi questa storia è un po' come descrivervi la storia di Game of Thrones come si fa vabbè comunque ci troviamo in questo regno che 2000 anni prima aveva vissuto quello che loro chiamano The Great Sorrow ovvero un'epoca in cui l'umanità si era scontrata con i draghi e che aveva vinto solo grazie al sacrificio di una loro santa e di un cavaliere che aveva sconfitto i draghi grazie all'aiuto di una spada magica detto così sembra una boiata in realtà non lo è per nulla ci troviamo 2000 anni dopo e seguiamo un'epoca nel quale comincia a scricchiolare la pace perché iniziano ad esserci dei segni che dicono che questi draghi si stanno risvegliando noi seguiamo diversi punti di vista e diversi personaggi all'interno di questo mondo tra cui Sabran che è la regina che è discendente dalla famiglia che aveva poi deposto i draghi e che si dice che finché la sua famiglia sarà in vita finché la sua linea di successione sarà garantita i draghi non torneranno al mondo e in quest'epoca troviamo Sabran che nonostante sia in età un po' avanzata non ha ancora preso marito e quindi c'è un problema abbastanza pressante dall'altro seguiamo Ead che è una delle sue dame della corte che però nasconde un segreto lei fa parte del priorato delle arance lei fa parte del priorato dell'arbero delle arance ed è lì in missione segreta per proteggere Sabran e lei è una maga oltre che una combattente molto allenata e dall'altro lato seguiamo Tanè che si allena fin da piccola per cavalcare ed allenare i draghi perché una parte dei draghi quelli di mare non so come dire senza la traduzione è difficilissimo parlarvi sono ovviamente stati al fianco dell'umanità e hanno combattuto i draghi dell'area i draghi che vengono dal fuoco e il suo sogno è sempre stato quello di poter accedere a questo grandissimo onore perché i draghi vengono considerati delle divinità in questo mondo e il suo sogno è quello di diventare un'allenatrice di draghi ufficiale apparentemente queste storie sono molto distanti tra di loro ma Samantha Shannon andando avanti con un'abilità pazzesca riesce a intrecciare tutti questi fili che si propagano non solo con le tre protagoniste principali che noi seguiamo ma con una serie di personaggi molto ampia caratterizzati benissimo veramente ottimi e riesce a piano piano ricucire tutta la storia che apparentemente sembra prendere direzioni opposte o insensatamente intrecciate e arriva a creare una storia veramente meravigliosa io gli ho dato 5 stelline perché secondo me è sicuramente il fantasy dell'anno il libro dell'anno è sicuramente uno dei fantasy migliori letti negli ultimi anni è scritto veramente benissimo benissimo io l'ho amato non so come altro dirvelo perché davvero è appassionante ed avvincente in una maniera che pochi volumi negli ultimi anni hanno fatto mette al centro delle figure femminili in una storia che tipicamente sarebbe stata attribuita degli uomini o comunque in pochissimi altri casi sarebbe stata attribuita degli uomini troviamo una storia che è piena zeppa di intrighi politici sapete che io amo di sviluppo personale dei personaggi che piano piano si delineano diventano sempre più complessi sempre più raffinati ma non raffinati nel senso che diventano dell'elite diventano raffinati nella loro definizione il modo in cui gestisce la trama è veramente molto molto interessante e a un certo punto continui davvero a pensare non ce la farà mai e invece ci riesce è molto bello il rapporto che hanno i draghi con gli esseri umani e comunque i draghi in generale sono veramente bellissimi veramente molto molto interessanti perché comunque i draghi hanno una personalità hanno una loro essenza e questa cosa è molto importante e soprattutto c'è tantissima rappresentazione perché ci sono personaggi della comunità LGBT però mai banalizzati mai ridotti a degli stereotipi ci sono tantissimi personaggi forti una varietà infinita di personaggi realtà storie insomma vabbè ragazzi io l'ho amato davvero moltissimo perché secondo me ha dei punti a favore che sono incredibili davvero non vi fate spaventare da nulla che questo tomone di 800 passapagine rappresenta è un fantasy non definirei neanche per adulti perché secondo me è proprio una cosa intermedia un po' un new adult non è sicuramente per ragazzi non è una cosa per ragazzi ma non è neanche high epic fantasy per adulti ai livelli di altre saghe devo dire che comunque è una lettura strapiacevole è una lettura molto piacevole molto scorrevole e molto molto intensa io davvero vi parlerò di questo no girerò un video su questo libro non ce la faccio a raccontarvi tutto in pochi minuti comunque davvero bellissimo 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 ha qualche difetto però ne ha diversi di difetti forse probabilmente ma tanto non so come dire i difetti sono così marginali rispetto a quello che è il risultato finale che sinceramente chi se ne frega cioè davvero è talmente appassionante qualcosa di talmente trascinante che tutto ciò che ha a che fare con la parte meno potente del libro è molto marginale ecco io ve lo consiglio al 200% non vedo l'ora che sia Natale così finalmente posso acquistare anche la versione italiana e non solo l'arc bellissimo bellissimo veramente ma basta perché non ho più voce oggi ok direi che siamo arrivati alla fine non ho più voce spero che comunque questo video vi sia piaciuto e che sia risultato interessante fatemi sapere se qualcuno dei titoli che vi ha suggerito oggi vi ispira vi intriga o che state puntando e fatevi sapere invece voi cosa avete letto di molto bello che sono sempre molto curiosa e niente io come sempre vi ringrazio per essere stati insieme a me spero di avervi tenuto compagnia e direi che ci vediamo al prossimo video ciao ciao